Via, via, via! Pesaro Rugby ha perso contro le prime due della classe, quindi Lazio e Capitolina. Con me al commento tecnico Giacomo Tontini. Giacomo, che partita pensi che sarà? Partita sicuramente molto tosta, loro hanno fatto soltanto una sconfitta. Pesaro ha già perso contro Lazio e Capitolina, sicuramente vogliono cercare di stare nelle prime tre posizioni. Forse Prato un po' più forte di Pesaro sulla carta, ma sarà una partita molto combattuta fino alla fine, secondo me. Vediamo. Partita sicuramente combattuta, anche perché si gioca al Totti Patrignani e Pesaro vuole sempre far valere il fattore campo. Fin qui è stato così, tre vittorie su tre in questo avvio di campionato, nelle tre partite casalinghe. La partita è appena iniziata, vediamo subito il Prato Sesto che calza via il pallone. Adesso è Pesaro che riparte con Stura, placato a centro campo. Una Pesaro Rugby che è partita con in prima linea Leva, Stefanini, Franco. In seconda Campagnoli e Caroli. In terza linea Venturini, Villarosa e Boccarossa, in mediana Antonelli, in mediana Boccarossa e Gioberta, Leali, Laresciarte e De Angelis, Centri, Paletta ed Erbolini. E come avete visto a estremo Stura. Fase della partita in cui le squadre si studiano, adesso uno in avanti da parte del Prato Sesto. Vediamo Pesaro che prova a accelerare, a dare ritmo. Giobert calcetto dietro, a provare ad averla meglio sui diretti avversari. Pesaro recupera, vediamo se riesce a tenere la palla, così non è. Però probabilmente si riprende dall'in avanti del Prato Sesto. Una Pesaro Rugby che è partita abbastanza bene. Sì, adesso ha un'azione un po' confusionaria, ma loro un po' in difficoltà. Quando è la ricezione palla, fanno già due avanti, buona salita del Pesaro, buona aggressione. Adesso penso andranno per Tush per provare ad andare subito in meta. Drive e si vedrà. Vediamo se andranno in Tush. Sì, era un vantaggio, no. Invece il guardaline Gatta la pensa diversamente da quanto non aveva visto l'arbitro Erasmus, o meglio, evidentemente ha visto qualcosa che non aveva colto l'arbitro di giornata e quindi si riprende con un calcio di punizione e si riprenderà con una Tush in favore dei Toscani. Sì, perché Giubert ha spinto il giocatore senza palla, giustamente. Tutto bravo qua il guardaline che ha visto bene. Vediamo allora la prima Tush di giornata, Tush a 5. Vediamo se Pesaro riesce a rubare. Non è una buona Tush per il Prato che però riesce a portare la terra. E adesso è il Prato che prova ad imporre il suo gioco. Adesso però palla rubata dalla Pesaro Rugby. Vediamo se riesce a tenere la bocca rossa. Sembra di sì. E riparte Franco vicino la RAC. Loro un po' in difficoltà in questo inizio. Non riescono a tenere bene la palla nelle mani. E adesso un calcio intercettato dal Prato. Sembra che la tenga in realtà il giocatore del Prato. Non la mette a disposizione dei compagni. Comunque ne vengono fuori i toscani. Adesso iniziano ad attaccare. Buono. Tre quarti molto veloci per il Prato sesto. Pesaro deve chiudere a largo. Deve riposizionare la difesa. Abbiamo visto subito un attacco molto veloce e ficcante da parte dei cavalieri. Pesaro adesso che deve chiudere a largo. Vediamo il placaggio arriva puntuale però sembra sempre un po' in affanno. Sì, non riescono a tenere bene la palla nelle mani. Riescono ad arrivare bene adesso all'Ala già due volte però sempre con qualche difficoltà. Adesso Pesaro sta difendendo bene. Vediamo cosa riuscirà a fare Prato. E adesso è brava Pesaro a mettere le mani sulla palla e quindi a costringere gli avversari al tenuto. E si ripartirà con un calcio di punizione in favore di Pesaro. Due squadre a cui piace giocare alla mano. Si è visto subito, si è visto inizialmente per la Fiorini Pesaro Rugby e si è visto in questa azione per il Cavaliere Prato. Ora una tush non proprio ottimale o meglio un calcio in tush non proprio ottimale per Giobert. Vediamo Stefanini al lancio. E soprattutto tush persa e palla rubata quindi sono il Cavaliere Prato a ripartire. Non bene qua, non bene qua, era importante tenere questa palla. Però è molto bello questo placcaggio e adesso è Pesaro che deve ripresentarsi sull'auto di sinistra. Ma una palla persa malamente ma comunque c'era prima l'inavanti dei Cavalieri e quindi si riprende con una mischia. Pensavo in favore di Pesaro, così non è? No, così è. Così è, ok. Aveva segnalato male l'arbitro inizialmente, infatti mischia in favore di Pesaro. Prima mischia della partita, Bocca Rossa a introdurre l'ovale. Fra l'altro gran bensole al Totti Patrignani. Dopo un sabato di pioggia incessante sembra che il campo abbia tenuto piuttosto bene. Se il campo poteva esserci il pericolo che era molto pesante invece non è così. Buon campo, buone condizioni dai. Si ripete. Si ripete la mischia. Difficile da qua capire qual è che sia stato il problema effettivamente. Vediamo se Pesaro riuscirà a contrastare la mischia toscana. La sensazione è che le prime tre della classe, Lazio, Capitolina e Prato, abbiano qualcosa di più in questo reparto. Così fatica a Pesaro tirare fuori l'ovale ma ci riesce. Adesso è Pesaro a distendersi sull'auto di sinistra. Stura. Adesso è Giobert, è un po' isolato sull'auto di destra. E infatti rubano subito il pallone. Davvero bravo Castellana a mettere le panni sull'ovale. Adesso è Pesaro che deve rallentare e risistemarsi per far fronte all'attacco dei cavalieri. Intanto c'è un vantaggio per i cavalieri. Cavalieri che provano per le vie centrali con gli uomini di mischia. Adesso invece provano a liberare palla sull'auto di destra. Ci riescono abbastanza bene. Adesso Calcio a inseguire. Per fortuna è Pesaro a recuperare l'ovale. Ma si torna sul punto precedente visto il vantaggio che era stato dato ai cavalieri. Cavalieri che sono usciti benissimo da una situazione, da una bella azione della Fiorini Pesaro. Sì, buon recupero a palla. Noi perdiamo la palla perché Giobert è isolato. Loro riescono ad andare a largo molto bene. Placcaggio mancato da parte di Lars Hart che manda verso il campo vuoto per Pesci. Adesso si ritorna sul punto del fallo. e loro potranno andare ancora più avanti e forse andare anche verso la meta. Vediamo un po'. Adesso Calcio in Tush a calzare Puglia. Fra l'altro un marchigiano, l'unico marchigiano nella squadra dei Toscani. Puglia ricordiamo il ragazzo di Ascoli che poi ha partecipato all'Accademia a Prato e poi si è fermato nella città toscana. Adesso Tush. Tush per il Prato. Tush completa per il Prato che la mette giù molto bene. Prova a impostare la molle. Però bravo. Stura ad arrivare al pallone. Però l'arbitro vede il placcaggio e vede il fallo. E quindi è vantaggio per i cavalieri. Adesso Pesaro deve mettere nuovamente a terra, in questo caso il pilone Battisti dei cavalieri. Vediamo Pesaro che prova a portare pressione ma si ritorna sul punto del fallo precedente. vediamo che cosa sceglierà di fare qui. I cavalieri sarebbero una buona posizione per loro anche per piazzare ma sembra che andranno in Tush. Troppi falli in questo inizio di partita da parte di Pesaro. È già il terzo che fanno. Già terzo fallo però effettivamente fatica Pesaro a contrastare l'avemenza dei Toscani. Toscani che fra l'altro adesso trovano una Tush perfetta praticamente sui 5 metri. Grand calcio di punizione di Puglia. Adesso vedremo come imposteranno la Tush. Prima hanno provato a impostare la Molle, non ci sono riusciti, non per questo non ritenteranno adesso. Adesso però è Pesaro a rubare l'ovale, brutta Tush per i cavalieri. L'arbitro però vede un in avanti di Pesaro e quindi si riprende con una mischia in favore dei Toscani. Prima abbiamo visto prima mischia dalla partita, loro sono stati molto avanzanti. Vediamo se adesso riusciranno a contrastarli. Sarebbe importante non farsi sopraffare dalla loro mischia in questo caso. Vediamo che contromisure prenderà Pesaro. Fin qui solo una mischia e ancora non si conoscono così bene i due pacchetti. Vediamo se le prime linee pesaresi riusciranno a contrastare quelle toscane. Introdotto l'ovale da parte di Renzoni. I cavalieri spingono e vanno nettamente avanti ed effettivamente arrivano alla meta con Morelli. Al dodicesimo quindi i cavalieri riescono a trovare la prima meta della partita e a portarsi sul 5-0. L'avevamo visto prima, loro hanno una forte mischia e si è visto anche adesso, loro vanno in meta. Bisogna cercare di cambiare da queste prime due mischie che non sono andate affatto bene. Da vedere se quello che manca sono i chili o piuttosto è l'amalgama e quindi l'assetto stesso della mischia per i pesaresi. Diciamo che comunque rispetto all'anno passato è una mischia per lo più nuova, con una prima linea cambiata in maniera importante e anche delle seconde che non sono le stesse dell'anno passato. Adesso alla trasformazione Puglia. Breve rincorsa, palo esterno e niente trasformazione per lui. Quindi Fiorini, Pesaro, Rugby, 0, Cavalieri, Prato, Sesto, 5. Si riparte da qui, Pesaro dovrà subito riportarsi avanti per andare a cercare di impattare nel punteggio. Sì, bisogna cercare di riprendersi dopo questa meta subita. Avevamo iniziato abbastanza bene, loro erano un po' in difficoltà, poi dopo sono riusciti a prendere le misure e ci hanno fatto meta. Però partita è lunga, è solo una meta, quindi ci si può rifare. Giobert al calzo di riavvio, buona la presa al volo di Pesci. E adesso è Pesaro che commette prima un errore e poi diciamo pure anche una sonora dormita. Grossa dormita qua da parte di Stura e anche Diego che non sono ben capiti chi dovesse andare a prendere la palla. Fortunatamente loro non hanno approfittato di questa dormita. Tush per il Pesaro. Si riparte da metà campo, vediamo come andrà questa Tush fin qui. Non così precisa, Pesaro in Tush, adesso bene. La porta, la schiaffezza, Venturini, adesso è Antonelli ad andare all'impatto, ad andare oltre il punto d'incontro. Buono Antonelli, adesso palla per paletta, palla complessa. Infatti alla fine sono i cavalieri a recuperarla. Vediamo i cavalieri che continuano a giocare con i propri tre quarti. Palla fuori, vediamo se Pesaro, fortuna di Pesaro non ha aperto questa palla e adesso Pesaro deve fare attenzione sull'out di sinistra ma si ripartirà con una Tush in favore dei pesaresi. Loro stanno comportando bene sia in difesa sia in attacco. Pesaro non è entrato bene in partita, sembrava all'inizio invece il contrario. Bisogna cercare subito di invertire rotta perché loro stanno iniziando a prendere molta fiducia, sono sempre nella nostra metà campo e quindi bisogna subito uscire da questa brutta situazione. Pesaro deve ripartire da quelli che sono le sue sicurezze sicuramente. Adesso buona la Tush su Campagnolo che però parte subito visto che non era stato contrastato. Bravo e adesso è Giubert a calzare in avanti il pallone. Vediamo se la palla rimane in campo, così sembra. Adesso è Bartali a recuperare i cavalieri che provano a impostare il loro gioco. Giocano vicino al punto d'incontro e adesso provano a sfondare per linee centrali. Adesso è il rorazzo dei cavalieri, quindi un in avanti e si riparte con una mischia in favore di Pesaro. Buona la pressione di Pesaro e come buona la pressione in difesa poi dovrà essere brava a portare il sostegno in attacco che è quello che fin questo momento è un po' mancato. Buona difesa di Pesaro, è cascato il pallone a Marioni. Adesso bisogna vedere questa mischia come andrà dopo le prime due che non sono andate bene e bisogna cercare di tenere un po' la palla perché loro sono molto bravi nei punti d'incontro riescono a prenderci la palla dalle mani ogni volta che attacchiamo. Quindi vediamo adesso cosa riusciranno a fare in questa azione, molto importante. Pesaro fatica in mischia però riesce a tirar fuori l'ovale, adesso Gioberto a togliere pressione ai suoi con un buon calcio e adesso Stura manca il placcaggio sul numero 14 dei cavalieri. Pesaro deve fare più attenzione, non si può mancare un placcaggio in quella maniera perché poi effettivamente si mette in difficoltà tutta la retroguardia giallorossa. Adesso Antonelli a ripartire, vediamo se calzerà dalla base, bocca rossa così non è e Stura a calzare avanti. Bellissima la presa di Castellana, sicura, ed è lui a ricalzare fuori. Vediamo se la pallone non usciva però quindi Stura è costretto a recuperare e a calzare nuovamente fuori. Si riprenderà con una tush in favore dei cavalieri. Sì, qua bravi Pesaro che sono riusciti a contrastare la difesa di Prato con un ping pong di calci. Qua sulla sinistra nostra è stata un po' di confusione con Stura che ha mancato un placcaggio. Giubert che è stato bravo ad uscirne un pochino e dopo... adesso sono loro in tush, in attacco sempre. Quindi vediamo se riusciranno a prenderla. La prendono... no. Un lancio non perfetto di Giovanchelli anche questa volta. Vediamo che in tush non sono così esaltanti i toscani e Pesaro può dire la sua quindi rispetto a questa fonte di gioco. Quindi altro in avanti per i cavalieri si riparte con una mischia per Pesaro. Mischia che abbiamo visto anche prima ha sofferto ma è riuscita a tirar fuori l'ovale. Diciamo Antonelli ha un compito abbastanza gravoso in questo caso perché l'uscita del pallone spesso e volentieri passa per lui in questo caso. Le mischie che abbiamo fatto sempre in attacco c'è sempre Antonelli che ha preso la palla per cercare di uscire e di aiutare il 9. Loro sono molto molto avanzanti. Nelle mischie c'è piloni molto in difficoltà. Loro molto organizzati e molto bravi. Forza Pesaro! Ricordiamo che Cavalieri Prato Sesto è una squadra che ha giocato anche in eccellenza. È stata la prima squadra che spense i sogni di gloria della Pesaro Rugby quando militava in Serie B. Pesaro che sperava in quell'anno di andare in A, ma Wakarua che giocava nelle file dei Cavalieri. Spense davvero i sogni che nutrivano i pesaresi. Da allora loro erano risaliti in Serie A. Pesaro ci ha messo qualche anno in più per raggiungerli. E quest'anno comunque i Cavalieri hanno messo in piedi una squadra che nutre obiettivi importanti. Adesso altro errore dei Cavalieri, altro avanti e quindi si ripartirà con una mischia in favore di Pesaro. Sì, loro fanno tanti avanti da inizio partita, però Pesaro manca tanti placaggi. Loro riescono sempre ad essere avanzanti. Il placaggio è cosa base, non bisogna mai sbagliarlo. Però a questo inizio di partita si è visto totalmente il contrario e bisogna anche in questo caso invertire rotta e migliorare nel placcaggio che è importantissimo. Adesso una mischia sotto di noi. Vediamo Pesaro che fatica molto dopo l'ingaggio. E adesso una penander di Jobert, ma è davvero bravo Castellana a prendere al volo questo vale, a involarsi verso la meta. Vediamo Pesaro che fatica a mettere a terra gli avversari. Infatti sono i Cavalieri ad andare a schiacciare la seconda meta della partita. E' davvero un peccato perché Pesaro stava salendo, ha mancato la presa al volo. O meglio, è stato bravo Castellana ad arrivare prima degli altri, dopodiché la linea difensiva di Pesaro era rotta e non c'è stato più nulla da fare per la Fiorini. Sì, Castellana fa un gran gesto tecnico perché prende la palla al volo e come va a terra fa una Veronica, manda al bar paletta che non riesce a prenderlo e vanno in meta. Grande azione di Castellana, la meta è soprattutto sua. Sì, non abbiamo visto effettivamente chi abbia schiacciato l'ovale, probabilmente Marioni. Sull'out di destra, la bandierina praticamente adesso trasformazione davvero complessa per Puglia. Vediamo, prima da ottima posizione non aveva centrato i pali, magari da questa posizione ben più defilata riuscirà a tirare fuori il coniglio dal cilindro. E infatti gran calcio di punizione di Puglia e quindi Cavalieri Prato 12, Fiorini Pesaro 0. Una Fiorini Pesaro che deve alzare la testa, ripartire dalle cose semplici e iniziare a giocare nel metà campo avversario. Una Fiorini Pesaro che fin qui ha faticato sia al placaggio ma ha faticato anche quando ha avuto palle in mano per la grande pressione dei Toscani. Sì, Pesaro non si è mai mostrato pericolosa nella loro difesa, loro molto bravi, anche se comunque fanno tanti errori, però Pesaro ne fa ancora di più e quindi bisogna cercare di sfruttare i loro errori e farne di meno da parte di Pesaro. Adesso Gioberta al calcio di riavvio e poteva esserci e starci un fallo in questo caso perché sembrava che Pesaro avesse spinto il saltatore avversario. Così non è, anzi c'è un tenuto da parte dei Cavalieri e quindi si riparte con un calcio di punizione per Pesaro e sembra che Gioberta abbia già deciso di andare per i pali. Sì, bisogna cercare di usare questi falli a favore nostro per cercare di fare i più punti possibili. Tre punti comunque ci si avvicina ai loro dodici, però bisogna farli questi tre punti adesso. Vediamo se Gioberta ce la farà, molto importante per rientrare in partita, che non è una partita affatto semplice in questo momento. Primo calcio di punizione della partita per la Pesaro Rugby, primo calcio di punizione che si può provare a mandare fra i pali, ovviamente non primo fallo dei Cavalieri, Gioberta che comunque ha sempre ottime medie dalla piazzola, vediamo la posizione è piuttosto favorevole. Ovale destinato fra i pali, guardaline alzano le bandierine, quindi Fiorini, Pesaro Rugby, tre Cavalieri, dodici, bravo Gioberta a centrare questo piastato e adesso questi tre punti devono dare morale a tutta la truppa, Pesaro deve tornare a giocare quanto prima nella metà campo dei Cavalieri, adesso è Puglia al calcio di riavvio. Sì, però buoni questi tre punti, importanti come dicevo prima, danno fiducia, danno morale, adesso si va subito nella loro metà campo, buon calcio qua da parte di Stura, Tusch loro, vediamo se riusciranno a prenderla come hanno fatto prima, loro non ben organizzati in Tusch, non hanno fatto grandi cose, non hanno mai messo in difficoltà la Tusch nostra, magari adesso potrebbe esserci un'altra volta palla rubata. E soprattutto si è visto che Pesaro può dar fastidio ai Cavalieri in Tusch, quindi è giusto provare a contrastarle, adesso vediamo nuovamente al lancio Giovanchelli. E ruba nuovamente infatti Pesaro, sembrava fra l'altro palla solidamente nelle mani della seconda linea dei Cavalieri e poi invece in aria ha perso il possesso dell'ovale, adesso è Stura a cercare un buon calcio, Pesaro che deve avanzare, vediamo Giovanchelli che è, Castellano scusate, che recupera bene l'ovale, adesso è Giobert chiamato a ricalzare in avanti l'ovale. Eravamo a ventacampo, forse Pesaro poteva portare pressione giocando alla mano, evitando un lennesimo calcio e quindi riconsegnando l'ovale ai Cavalieri. Sì, bisognava provare ad attaccare, non servono questi calci, soprattutto se si vuole provare a fare meta. Loro sono messi molto bene nel triangolo allargato e quindi questo calcio in quel momento lì non aveva molto senso. Giobert poi è costretto a calciare giustamente perché è troppo pericoloso tenere la palla nei 22 nostri. Davvero un peccato perché Pesaro aveva recuperato bene questo pallone, adesso invece riesce il Cavalieri a recuperare il pallone, in più c'è anche il fuorigioco di Campagnolo e quindi si riparte con un calcio di punizione in favore dei Cavalieri. Questo era un fallo evitabile. Sì, questo fallo molto evitabile anche perché concedi a loro di andare in tusce, di avvicinarsi di più alla zona rossa. Vediamo questa tusce come andrà da parte di Prato. Pesaro che comunque ha mostrato che può metterli in difficoltà, anche se comunque nei drive non abbiamo visto realmente un drive in questa partita. Vediamo cosa farà Prato. Sì, effettivamente non c'è stato un drive o una mola avanzante in tutta la partita. Vediamo se adesso riesce invece a impostarla i Cavalieri. Sembra che inizialmente l'avevano impostata bene, adesso sembra che Pesaro sia riuscita a bloccarla. Vediamo che invece avanza. Vediamo se Fiorini riesce a tenere la mola dei Cavalieri. Probabilmente usciranno con un pick and go vicino alla rack. Così è, Pesaro che respinge di fatto sulla linea ma non riesce fino in fondo e i Cavalieri vanno a segnare la terza meta di giornata. Questa meta nasce da un errore di campagnolo molto punto evitabile. Loro bravi nel drive che comunque riescono un po' ad avanzare, riescono un po' ad avvicinarsi alla nostra meta. Due pick and go loro vanno in meta molto bravi. Dobbiamo dimostrare di avere in questo momento una mischia molto più forte e lo stanno facendo vedere perché le tre mete nascono dalla mischia di Prato. Pesaro che fatica a contenere la fisicità dei Toscani, fatica in mischia chiusa e in questo caso ha faticato anche vicino la rack con questo pick and go che ha portato i Toscani alla terza meta e quindi a prendere un bel divario nei confronti dei pesaresi. Adesso Puglia nuovamente alla trasformazione. Puglia al calcio, questa volta lo mette, quindi due trasformazioni consecutive per lui e Cavalieri Prato che si portano sul 19-3 nei confronti della Fiorini-Pesaro. Partita che si è messa su un binario decisamente storto per i giallorossi pesaresi che sembrano non crederci troppo in questa partita. Sì, distacco molto ampio. Non è iniziata bene questa partita, il primo tempo sta ancora finendo peggio. Vediamo se magari dopo la fine del primo tempo cambierà qualcosa all'Ori. in questo momento però bisogna cercare di pensare a questo primo tempo e cercare di provare a fare una meta anche se loro comunque sembrano essere molto ben organizzati e hanno più fiducia rispetto ai giocatori di Pesaro. Adesso Stura ha chiamato a prendere al volo l'ovale. Vediamo il contrattacco. Consegna qualche difficoltà nei passaggi per Pesaro però riescono a mantenere l'ovale. Adesso è Pesaro che prova a spingere, ad andare oltre la linea del vantaggio con Franco, davvero bravo. Adesso è Caroli a spingere sulle gambe. Vediamo Boccarossa che prova a dare ritmo all'attacco dei giallorossi. Adesso è Jobert per Stura. Pesaro che gioca in velocità e adesso è bravo Paletta a rientrare. Diversamente sarebbe stato troppo isolato sull'out di destra. Boccarossa a dare ritmo. Palla sull'out di sinistra. Pesaro che va oltre la linea del vantaggio. Vediamo se riesce a mantenere l'ovale. Adesso c'è anche un vantaggio per i giallorossi. Bravissimo Franco ad andare oltre la linea. E l'arbitro però ferma tutto per un velo fra i giocatori pesaresi. Quindi si riparte con un calcio di punizione in favore dei giallorossi. Buona azione da parte di Pesaro. Una prima azione abbastanza continuata rispetto alle azioni scorse dove calciavamo molto spesso. Adesso invece riusciamo ad attaccare. Facciamo tanti punti di incontro. Siamo pericolosi. Adesso andiamo nella loro zona rossa. E sarebbe molto importante adesso fare meta prima della fine del primo tempo. Sì, entriamo praticamente nei 22 avversari. Una tush per Pesaro. Vediamo adesso che Stefanini e il pacchetto discutono su quale sia la migliore scelta in tush. Vediamo se Pesaro riuscirà a portare a terra l'ovale. Palla per Campagnolo che riesce a smanazzare comunque per i giallorossi. Leva che tiene l'ovale in mano. Davvero bravo. E adesso è bravo Santino a prendere la palla e andare dritto per dritto dal punto di incontro. E adesso è Giobert che prova a giocare con paletta al centro. Buono all'incrocio. Paletta a terra. Serve la pulizia veloce dei compagni. Vediamo Boccarossa che serve Campagnolo e Campagnolo ad andare a contatto. Mette la palla a disposizione dei suoi compagni. Boccarossa che non riesce a servire i suoi. Comunque palla ancora nelle mani dei giallorossi. Pesaro deve ripartire. Palla per Santino. E comunque Pesaro. Adesso dalla palla a destra a paletta. Davvero isolato. Serve il sostegno dei compagni. Pesaro sembra riuscire. Ma Botti mala contro Rack. Dei cavalieri. Bravo Pesaro comunque a recuperare l'ovale. Adesso è Boccarossa a servire Caroli. Serve il sostegno. Caroli un po' isolato. Anche lui. Pesaro. Gioco un po' rotto. Adesso è Venturini ad andare a terra. E purtroppo Venturini tiene il pallone. Bravi cavalieri. A mettere le mani sopra l'ovali. Bravo Battisti in questo caso. Forse è un passaggio un po' troppo alto per Venturini. Però anche lui ha sbagliato a non metterla subito a disposizione. E quindi azione sfumata per i pesaresi. Difesa avanzante da parte di Prato. Molto in ritardo i giocatori di Pesaro nei punti di incontro. Non si è soltanto visto in questa azione dove hanno fatto tenuto. Ma anche nei scorsi punti di incontro. Prato dimostrò di essere molto forte in difesa. Bisogna cercare di trovare qualche altra alternativa. E non soltanto andare dentro a sbattere. Perché loro hanno dimostrato di essere appunto molto molto forti nel placcaggio. E nei punti di incontro. Sono forti nel placcaggio. Bisogna cercare di allargare quanto più il gioco. Certo è che la pressione che portano in difesa è davvero importante. E Pesaro non può che faticare. Quindi a contrastare la difesa. E a mettere in difficoltà la difesa dei Toscani. Adesso è Prato che riparte bene dopo questa tush. Con il numero 8 Morelli. Prato che prova a stendersi con i suoi tre quarti. Pesaro che spesso raddoppia nei placcaggi. Nonostante questo comunque fatica a mettere in difficoltà i Toscani. E questa volta Leo si rifà del tenuto precedente. Perché lui questa volta costringe i Toscani al tenuto. Bravo in questa occasione. Bravissimo Venturini che si trova al posto giusto. Nel momento giusto. Riesce a prendere la palla. Riusciamo anche in questo caso ad uscire dai nostri 22. Adesso Gioberto andrà in tush. Bisogna andare il più lontano possibile. Buon calcio per Gioberto. Non era semplice. Si arriva quasi a metà campo. Ed è da qui che Pesaro dovrà ripartire. Intanto se ne sono andati i primi 35 minuti di questo primo tempo. Quindi 5 minuti alla pausa. E adesso Pesaro può recuperare. L'ovale ha faticato. Vediamo che cosa segnale l'arbitro. Segnalato un in avanti. E quindi si riparte con una mischia in favore di Pesaro. Sì e anche qua forse Stefanini l'ha tirata molto forte a Caroli. Però vediamo questa mischia come andrà. Comunque siamo riusciti a tenere la palla. Questo era l'importante. Anche se comunque i mischia e loro sono molto forti. Vediamo se adesso cambierà qualcosa. Fin qui in partita nessun cambio per nessuna delle due squadre. Vediamo che Pesaro fatica a tenere in mischia brava. Però a tirar fuori subito l'ovale. Adesso è Giobert che prova a bucare per vie centrali. Va oltre la linea del vantaggio. E c'è l'ennesimo tenuto di questa partita. E effettivamente sembra che rispetto agli anni passati venga punito molto di più il tenuto. Forse c'è anche meno tempo proprio per mettere a disposizione il pallone per i propri compagni. Forse questo per favorire molto di più il gioco e lo spettacolo. Sì sicuramente. Però lì bisognava essere molto più veloci. Bisognava sostenere subito Giobert che aveva preso un bel buco. E se ci fosse stato un bel sostegno magari si poteva andare più avanti e non prendere fallo. Adesso loro hanno la possibilità di fare altri tre punti e si allontanano sempre di più da Pesaro. Eh sì abbiamo visto che in questa partita Pesaro fatica un po' nel sostegno. Ma forse sono proprio due squadre che vanno a due velocità differenti in questo momento. con i cavalieri un po' più presenti sia al placaggio che al sostegno quando sono in attacco. E Pesaro che è bravo, ha dei begli spunti come quest'ultimo di Giobert. Più volte è andata oltre la linea del vantaggio ma poi non sempre è riuscita a portare in maniera ficcante il sostegno ai propri compagni. Adesso sbaglia malamente il calcio di punizione Puglia quindi recupera bene Paletta subito un calcio sull'out di sinistra. E si riparte poco dopo la metà campo con una tush in favore dei cavalieri. Fortunatamente loro non sfruttano questo calcio di punizione, non prendono i tre punti. Paletta bravo che calcia subito perché è troppo appunto pericoloso tenere la palla lì. Adesso la palla è ancora di Prato, vediamo questa tush e vediamo se Pesaro riuscirà a contrastare nuovamente. Abbiamo visto che Prato fa molte difficoltà e Pesaro è molto brava. Lancio decisamente storto per i cavalieri. Vediamo se Pesaro quindi deciderà di impostare subito una tush. Così sarà infatti. Stefanini che si prepara al lancio, colloquia con i suoi per capire quale giocata chiamare. Pesaro con quattro uomini in linea. Una tush veloce. Bocca rossa riesce a recuperare l'ovale per un primo momento e poi invece sono i cavalieri a recuperare l'ovale. Per fortuna di Pesaro lo perdono in avanti e quindi Pesaro può ripartire. Si ripartirà probabilmente con un calcio di punizione in favore di Pesaro? No, sembra che l'arbitro abbia segnalato unicamente lì in avanti e quindi si riparte con la mischia in favore di giallorossi. Sì, un po' confusionare questa azione. Riusciamo comunque a tenere la palla, non riusciamo a sfruttare il vantaggio. Però va bene così. Adesso mischia, abbiamo visto appunto le mischie in questa partita. Loro sono molto più forti, bisogna cercare di farlo uscire subito questa palla per uscire dai nostri 22 e buttarla il più lontano possibile. Mischia pericolosa per Pesaro, deve subito tirarla fuori. Adesso addirittura fallo della mischia pesarese, batte velocissimo i cavalieri. Buono il placaggio di Pesaro e soprattutto che costringe i cavalieri all'inavanti e quindi si riprenderà con un'altra mischia in favore dei pesaresi. Lì mi sa che nel fallo che ha dato l'arbitro non l'ha tallonato il tallonatore per primo, quindi calcio di punizione per Prato. Non riescono a sfruttare questo fallo da parte di Pesaro. Comunque è mischia nostra e bisogna appunto, come dicevo prima, farla uscire il più veloce possibile. Tanto un magnifico sole per i pesaresi, i tifosi pesaresi che hanno scelto per lo più la tribuna, lato parco che è quella al sole visto che nell'altra tribuna più grande e più recente è all'ombra e fra l'altro non c'è neanche la copertura quindi effettivamente è qualche grado in meno sicuramente e quindi in tanti hanno deciso di godersi la partita con il viso al sole e godendo anche un po' di solarium, quindi abbronzandosi un po'. Vediamo che si ripete questa mischia con introduzione pesaresi, lo ricordiamo. Vediamo questa volta se riuscirà a tallonare in maniera puntuale la palla. Questa volta Pesaro la tiene, adesso è Bocca Rossa a calciarla, palla fuori perché termina qui il primo tempo con il Cavalieri Prato in vantaggio per 12-3 sulla Fiorini-Pesaro. Linea allo studio. Rieccoci al Totti-Patrignani di Pesaro per il secondo tempo fra la Fiorini-Pesaro-Regbi e i Cavalieri Prato-Sesto, Cavalieri che guidano nel punteggio per 19-3. Vediamo l'arbitro Erasmus che fra pochi istanti fischierà l'inizio di questo secondo tempo. Così è e quindi si riprende a giocare al Totti-Patrignani. Vediamo Pesaro qualche difficoltà nel recuperare l'ovale con Stura. Abbiamo visto che per Pesaro è entrato Marco De Lorenzi al posto di Campagnolo in seconda linea mentre ci pare che non c'è stato nessun avvicendamento nelle fila dei Cavalieri. Cavalieri che adesso sicuramente spingeranno per arrivare alla quarta metà di giornata che potrebbe consegnargli la vittoria con bonus. Adesso fuori gioco di Pesaro, ma no, probabilmente sta parlando con... Ah no, fuori gioco di Prato. Nonostante adesso il guardaline stia parlando, o meglio l'arbitro stia parlando con il guardaline, era fuori gioco del numero quattro dei Cavalieri e quindi si riprende con un calcio di punizione per la Pesaro Rugby che va in tusche con Giobert. Questo secondo tempo inizia subito con una mancata presa al volo, quindi non subito bene, però calcia via, dopo loro fanno un fallo fuori gioco. Sfruttiamo questo fallo, andiamo in tusche a metà campo che è proprio qua sotto di noi. Bisogna vedere se cambierà qualcosa con De Lorenzi, ma penso che è fuori. Però bisogna cercare di ripartire dalle tusche dove loro fanno difficoltà. Tusche a 6 per Pesaro, ma Pesaro non riesce a recuperare l'ovale, bravo subito Venturini a mettere a terra l'avversario, adesso è il Prato che riparte con il pilone destro, prova a mettere subito ritmo, Renzoni e adesso vediamo Pesaro che fatica a contenere l'attacco dei cavalieri che vanno in meta, ma il gioco è fermo, da un po' per un in avanti, quindi si riprenderà con una mischia in favore dei pesaresi. Interessante vedere se cambierà qualcosa in mischia, in mischia chiusa con l'inserimento di De Lorenzi in questo secondo tempo per la Fiorini-Pesaro-Regbi. Importante fare subito bene questa mischia, dopo il primo tempo che abbiamo visto in netta difficoltà la mischia pesarese, magari con De Lorenzi ci sarà più spinta verso il loro campo, i piloni saranno ben sostenuti. Fatica comunque in spinta Pesaro, è bravo Antonelli però a uscire palla in mano, andare oltre la linea del vantaggio, cavalieri che faticano a metterlo a terra, adesso vantaggio per i pesaresi e l'Eva che deve andare a impattare, così è, bravo, Pesaro adesso fatica nella pulizia e si torna sul punto del fallo precedente. Vediamo se Pesaro andrà in tusce, così sembra che sarà, oppure se andrà per i pali. La posizione è delle migliori per cercare i pali, infatti Giobert sceglie e opta per andare in tusce. Prima volta che andiamo nella loro zona rossa, sfruttare subito questa occasione per rientrare in partita e fare subito una meta. Una tusce sui 10 metri, prima è andato male il lancio di Stefanini, vediamo se questa volta avrà più fortuna e si troverà meglio con i suoi compagni. Adesso è andato via il sole sul Totti Patrignani, quindi temperatura piuttosto rigida, portata molto bene la palla giù dalla Pesaro Rugby, Pesaro che imposta la Moll, Moll decisamente avanzante, sembra che l'abbia fatta crollare i Cavalieri, così non è per l'arbitro, adesso è Santino a provare ad andare oltre la linea del vantaggio, viene respinto dai Cavalieri, adesso è Pesaro che apre, buona l'apertura per Erbolini, purtroppo in avanti di Stura e quindi si riprende con una mischia in favore dei Cavalieri. Grande peccato perché qua avevamo fatto un bel drive, stavamo avanzando, peccato qua che c'è stato l'avanti di Stura, non riusciamo ad andare in meta, comunque è un buon inizio di secondo tempo rispetto alla fine del primo tempo. Sì, anche perché era stata comunque buona la trasmissione veloce dell'ovale, nonostante la pressione dei Cavalieri, Pesaro se avesse tenuto questa palla in mano probabilmente sarebbe riuscito ad andare anche oltre la linea di meta, così non è stato, si riprende con una mischia, Pesaro nuovamente a soffrire per cercare di respingere il pacchetto dei Toscani. Vediamo Renzoni all'introduzione. L'arbitro ferma tutto, evidente sono crollate le due prime linee, nessun problema, vediamo un po' che cosa dirà l'arbitro ai ragazzi. Partita davvero complessa, ma sono queste le partite che servono a Pesaro per crescere ancora più, per testare la sua forza e mettersi alla prova con squadre di un livello probabilmente superiore, almeno questo dice il punteggio fin qui. adesso è Pesaro che prova a fermare l'attacco e adesso buona la presa di Stura, l'arbitro vede il fuorigioco, vediamo se Pesaro batterà velocemente, così è e la Reciarte parte velocemente, ma no, non era quello il punto e quindi si deve ripartire. Intanto a terra c'è Stefanini, talloner della Pesaro Rugby. vediamo se Allori deciderà di cambiare, in questo momento ancora non vediamo Bartolomei a scaldarsi, quindi non è così e intanto Jobert decide di andare in Touche, Touche sui 5 metri, Touche che deve essere pericolosa per i Cavalieri e Pesaro che deve riuscire a impostare al meglio il suo attacco. Sì, hanno dimostrato prima che hanno fatto un bel drive, quindi ripartire da quel buon drive e provare ad andare in meta questa volta che appunto è molto importante provare a fare meta per rientrare in partita. Vediamo come andrà questa Touche. Buona la Touche, porta a terra Antonelli, Pesaro imposta alla Molle, buona la spinta e buono l'avanzamento dei Giallorossi, sono a un passo dalla linea di meta e così è, e così arriva la prima meta di giornata per i Giallorossi, una meta davvero ben strutturata dai ragazzi pesaresi, non abbiamo visto chi ha schiacciato la valle, probabilmente Franco, pilone destro della Fiorini Pesaro Rugby, davvero una gran bella Molle organizzata dai pesaresi che riescono a trovare la prima segnatura pesante di partita e così il punteggio si muove e i Cavalieri continuano a guidare per 19 a 7 ma comunque la Fiorini Pesaro si avvicina nel punteggio. Buono, è stato un buon drive, abbiamo fatto meta, abbiamo sfruttato il nostro punto forte, adesso mi sembra che Stefanini si sia fatto male, ha fatto pure il caschetto, vediamo se riuscirà a continuare. Giubberto che adesso invece ha un compito importante fare il calcio per portare a casa due punti che ci permetterebbero di avvicinarci ancora di più a Prato. Ricordiamo fino a questo momento tre limite per Prato, questa è la prima per Pesaro, vediamo Giobert al calcio di trasformazione. e c'entra i pali e quindi il punteggio per la Fiorini Pesaro Regbi si muove, Fiorini Pesaro Regbi 9, Pesaro Regbi 10 e Prato sesto 19, 9 punti di differenza, più di una meta trasformata però Pesaro se non altro si avvicina nel punteggio, una meta che è ossigeno puro per i giallorossi. Intanto c'è un cambio nelle fila dei cavalieri, esce il numero 7 reali, stiamo a vedere poi chi entrerà, entra il numero 20 i conigli ed esce anche il numero 12 Nistri e vediamo non vediamo da qui il numero entrato al suo posto, il numero 23 Magni. Si riparte, buona la presa questa volta di Stura e sembra anche un buon calcio, così è, Castellana cincischia un po' nel recuperare l'ovale, adesso è buona la pressione dei pesaresi, Pesaro adesso che deve recuperare l'ovale, Stura era salito dopo il suo calcio adesso è Jobert a trovare un altro buon calcio sull'out di destra però non riesce ad uscire l'ovale, Pesaro quindi deve contrastare l'attacco dei cavalieri, Pesaro che deve schierare al meglio a largo, adesso un calcio uscito decisamente male per i cavalieri e Stura quindi a provare ad attaccare ma nell'impatto perde l'ovale, per fortuna dei pesaresi anche Prato commette un in avanti e quindi si ripartirà con una mischia in favore dei Toscani. Un peccato perché la presa del volo era stata ottima, aveva superato la linea del vantaggio poi al momento dell'impatto ha perso la maniglia dell'ovale. Sì, è vero, però comunque c'è da notare che l'atteggiamento è cambiato rispetto al primo tempo più propositivi il Pesaro che cerca di andare sempre in avanti, calci intelligenti questo rispetto al primo tempo dove si calciava così giusto per, per provare a togliere la pressione invece adesso si fanno dei calci molto intelligenti e molto furbi che mettono in difficoltà la difesa di Prato. Probabilmente è stata utile anche la pausa fra primo e secondo tempo, Pesaro ha registrato alcune cose, adesso Pesaro che recupera l'ovale con qualche difficoltà per Stura e l'arbitro dice di giocare e l'arbitro fischia un calcio di punizione per Pesaro. Altro fuorigioco mi sembra di Prato, questo punto mi viene a dire che calciano, però vedo l'arbitro un po' in confusione perché prima aveva fischiato fallo per Prato, poi fallo per Pesaro un po' di confusione in questo momento, però palla comunque nostra, quindi è questo l'importante. Oltre a questo sembrano un po' di metri guadagnati perché Prato ha parlato un po' troppo e quindi vediamo un po' adesso la tush cercata da Giobert, una tush sicura e quindi Stefanini che adesso sembra aver ripreso dalla botta precedente e chiamato a un nuovo lancio. Vediamo che il pacchetto di mischia sta decidendo quale chiamata provare e potrebbe essere un'altra buona situazione per i pesaresi. Sì, bisogna cercare appunto di ripartire dalla tush di prima che è stata molto efficace, vediamo se questa volta sarà così e bisogna puntare soprattutto sulle tush oggi. Adesso gran bel lancio per Villarosa che la porta a terra, Pesaro che imposta bene la tush, la molla scusate però c'è un in avanti per Pesaro e purtroppo si riparte con una mischia in favore di Toscani. Sì, grosso peccato perché abbiamo visto che le tush sono il nostro punto forte e oggi bisogna provare a rimontare e provare a vincere questa partita sulle tush. Non sfruttiamo bene questa tush avanti. Abbiamo visto però mischia prima di Prato che non è stata così avanzante rispetto al primo tempo, quindi si vede che è cambiato anche qualcosa nei giocatori pesaresi, nelle menti e forse anche De Lorenzi da una spinta in più. Intanto arriva un cambio, entra Rulli. Intanto un cambio nei tre quarti pesaresi, entra il giovane Rulli. Stiamo a vedere chi uscirà, probabilmente esce De Angelis l'ala perché lo vediamo qua avvicinarsi alla metà campo. Così è. No, invece scusate è uscito Stura e De Angelis che si va a piazzare a estremo. Eccolo qua Stura a sfilare sotto di noi. De Angelis che ha giocato le ultime due partite davvero bene nella posizione di estremo, non facendo rimpiangere Stura che è rientrato domenica scorsa a Roma. Adesso vediamo se Pesaro riuscirà a dirla sua in questa mischia e mettere un po' di pressione ai cavalieri. Stura ha fatto una buona partita nonostante qualche errore, ma comunque è sempre riuscito ad essere efficace nella difesa di Prato. Entra Rulli che è un giocatore molto veloce, magari con le sue gambe si può provare ad andare in meta. Tra l'altro Rulli, giocatore giovanissimo che fa parte anche dell'Under 19 del Fiorini Pesaro Rugby e anche tuo compagno di squadra, quindi Giacomo. Sì, mio compagno di squadra, sappiamo quanto è veloce, ha fatto tante meta in velocità partendo dai 22 per poi andare in meta, quindi magari anche oggi potrebbe riproporsi questo tipo di situazione, però bisogna dargli la palla se si vuole provare ad andare in meta con lui. E soprattutto comunque l'Under 19 e la Serie A sono due categorie decisamente diverse, non è così semplice fare una meta a tutto campo. Comunque le gambe le ha e ci auguriamo il meglio per lui e per la Fiorini di Pesaro Rugby. Adesso si ripete la mischia, vediamo ancora l'introduzione dei cavalieri, Renzoni ha la palla in mano e adesso siccome sembra che i cavalieri decidano di non legare, anzi no, chiacchierano un po' troppo i cavalieri, l'arbitro non ci sta e quindi assegna un calcio di punizione per Pesaro, un calcio di punizione praticamente davanti ai pali. Giobert non se lo fa dire due volte e decide di provare il calcio di punizione per andare per i tre punti e quindi portare il punteggio a questo punto sotto break, se così fosse. Sì, loro fanno tanti falli, hanno iniziato male questo secondo tempo rispetto al primo, tanti falli che noi in questo momento stiamo sfruttando bene ed è importante così. Adesso tre punti che si portano sempre più vicini e questa partita in questo momento si sta mettendo sulla direzione giusta e buon atteggiamento da parte di Pesaro. Adesso Massimo silenzio al Totti Patrignani per la concentrazione di Gioberto. Non sbaglia Gioberto, è così la Fiorini-Pesaro-Regbi si avvicina ancora di più ai cavalieri Prato Sesto. Fiorini-Pesaro-Regbi 13, cavalieri Prato Sesto 19. Solo sei lunghezze di differenza nel punteggio e adesso cavalieri che sono chiamati ad alzare la testa per riportarsi avanti mentre la Fiorini vede la ghiotta occasione di raggiungere gli avversari. Adesso fra l'altro gran brutto calcio di avvio per i cavalieri. Vediamo Pesaro cosa decide di fare, se riprendere con una mischia a metà campo o con una tush. Pesaro evidentemente non si fida così tanto della sua mischia e decide di riprendere con una tush. Intanto per i cavalieri entra il numero 22 Marzucchi per Renzoni, cambio in mediana quindi vediamo se Marzucchi andrà a numero dove come mediano di mischia. Sì, così è. Intanto vediamo Stefanini pronto al lancio, speriamo che Pesaro riesca a portare a terra l'ovale per poi ripartire. Tush decisamente complicata e Pesaro purtroppo perde l'ovale. Adesso deve sistemare la sua linea di difesa. Bravo Pesaro, anzi fatica un po' troppo a mettere a terra il centro dei cavalieri. Adesso è Prato che prova a sfondare per linee centrali, Pesaro che prova a portare pressione. Bravo De Angelis qui a recuperare l'ovale, metterlo a disposizione dei compagni. C'è il vantaggio bravo, bravissimo De Angelis in questo caso, non è stato bravo invece non sono stati bravi i cavalieri. Adesso vediamo che cosa deciderà l'arbitro richiamato dal guardaline ed è punizione in favore di Pesaro. Sì, sono stati un po' Larsciarte, un giocatore di Prato, un po' delle mani in faccia però il guardalinea vede bene chi è stato forse per primo e dà fallo per questo motivo a Pesaro e adesso appunto si va via da questa zona pericolosa con un buon calcio di Giuberti che però non va fuori. Non va fuori, non va fuori, rimane in campo. Adesso Pesaro però deve salire con la sua linea difensiva, deve riposizionarsi al meglio. L'arbitro non concede l'inavanti. Adesso allora è Antonelli a recuperare l'ovale e vediamo, sarà lui ad andare dritto per dritto. E' lui che va all'impatto, va oltre la linea del vantaggio. Pesaro che raccoglie subito col capitano Carlo Villarosa. Adesso è Santino. Attenzione Franco, se si isola, adesso ottima Francesina su di lui però Brano a Pesaro a dare continuità al suo attacco. Vediamo se riesce a portare sostegno puntuale. Al momento pare riuscirci. Adesso è Pesaro ad andare avanti, portare pressione. Quindi Cavaliere però sono bravi, Toscani a venire fuori da questa situazione. E' davvero buono il placaggio, se non sbaglio, di Rulli. Adesso è Pesaro a portare una grande pressione difensiva. Vediamo che cosa sceglieranno di fare i Cavalieri se adesso ripartiranno con un calzo per esplorare il terreno. Pesarese, così è un calcio dalla base per il nuovo entrato mediano di Mischia. Davvero bravo De Angelis in questo caso a recuperare il pallone al volo. E soprattutto l'arbitro sembra vedere un altro fuorigioco da parte dei Cavalieri e quindi altro calcio di punizione in favore dei Pesaresi. Cavalieri che sembrano un po' frastornati da tutti questi fuorigioco o non si riescono ad adeguare o non capiscono il metro arbitrale. Sì, è il quarto fuorigioco che li fanno in questo secondo tempo e forse l'arbitro dovrebbe anche iniziare a punire con un cartellino giallo dopo che inizia ad essere un po' ripetuto questo tipo di fallo. Intanto si è aperto il tacchetto di Villarosa, del capitano. Adesso mentre Pesaro si prepara per una tush abbiamo il capitano Villarosa che senza una scarpa ha proprio devastato la scarpa. Vediamo se riuscirà a sostituire la scarpa rotta o no. Adesso infatti l'arbitro è stato avvertito dal guardaline. C'è la sostituzione di Scarpino per lui. Si gioca con due scarpe diverse ma non è questo il problema. L'arbitro che dà il tempo a Villarosa per rientrare in squadra e far giocare le due squadre al completo. Adesso tush nostra non è andata bene la scorsa tush e vediamo se in questo caso riusciranno a fare meglio. Importante perché siamo sempre lì in questo secondo tempo c'è proprio totalmente un cambio di atteggiamento rispetto al primo tempo e siamo in partita. Mi viene da dire peccato per il primo tempo perché si poteva fare assolutamente meglio. Si, cavalieri che sono un po' calati Pesaro che è cresciuta, Pesaro che fatica a portare a terra questa tush vediamo se riesce a mantenere l'ovale o meno così è purtroppo ha perso un po' di metri però comunque è palla nelle mani di giallorossi che possono provare a rimpostare il loro gioco. Adesso Giobert che gioca veloce per Erbolini Erbolini portato a terra serve il sostegno dei compagni Boccarossa vicino per Franco Franco che sta spendendo un sacco di energie gioca dal primo minuto in prima linea anche se bisogna dire che anche i cavalieri non hanno fatto nessun cambio in prima linea in questa partita adesso è Pesaro che riesce ad andare oltre la linea del vantaggio ancora palla per Santino grande partita per lui purtroppo in questo caso non riesce a mettere a disposizione dei compagni lo vali, lo tiene i cavalieri mettono le mani sulla palla e c'è il tenuto Peccato, peccato perché l'azione era una buona azione Franco non è stato ben accompagnato non c'era nessuno che lo accompagnava in questa azione palla loro e vanno via dalla zona rossa e adesso c'è pure un cambio mi sa che entra Bartolomei al posto di Stefanini penso sì, ed è così cambio in prima linea per la Fiorini Pesaro Rugby esce Stefanini partita di grande sacrificio per lui entra Bartolomei un cambio in prima linea servivano forze fresche forse si è visto anche in quest'ultima azione che comunque le energie vanno calando dall'una e dall'altra parte sì, Stefanini poi ricordiamo che nel primo tempo aveva preso una botta infatti uscendo si toccava nel costato e comunque servivano un cambio in prima linea perché la prima linea iniziava ad essere molto stanca molto affaticata però comunque gran partita da parte di Stefanini che come sempre mette sempre il suo buon placcaggio buon tutto quanto come sempre bravo Stefanini ennesimo giocatore uscito dal vivaio della Pesaro Rugby ancora a cambi in questo caso fra le linee dei cavalieri escono uomini di sostanza uomini di mischia entrano Trivillino e Cascello escono Battisti e Mardegan escono tanti chili sembra a prima vista che ne entrino altrettanti nella mischia dei cavalieri chili che forse in parte mancano a quelle alla mischia pesarese adesso l'arbitro che si confronta ancora con i guardalini c'è qualcosa che non gli torna ricordiamo che arbitra e guardaline sono tutti connessi con microfono e auricolare tutto ok sembra che si possa proseguire nel gioco no? sì, così è quindi vediamo Tusch con l'ancio da parte dei toscani palla portata bene a terra Pesaro che adesso deve impostare al meglio la sua difesa adesso buono il placcazzo dei pesaresi Pesaro che non si deve lasciare e adesso è Pesaro che recupera l'ovale ma c'è lì in avanti da parte dei toscani l'arbitro interrompe il gioco e si riparte con una mischia a introduzione pesarese buona difesa da parte di Pesaro casca il padrone da parte di Prato riusciamo a prendere la palla mischia adesso vediamo con i cambi che ci sono stati se cambia qualcosa intanto entra Tontini mio fratello speriamo faccia bene oggi adesso anche l'augurio del cronista di giornata Giacomo Tontini per il fratello Giovanni Tontini che entra al posto di Leonardo Venturini quindi un cambio in terza linea più o meno a chili siamo sugli stessi chili forse aumenta la qualità nel gioco aperto diminuiscono sicuramente i centimetri in touche però ecco due ragazzi pesaresi un piacere vederli in campo vediamo quale apporto potrà dare anche Tontini a questa partita introduzione di Boccarossa Pesaro che fatica perde la mischia per sua fortuna c'è subito l'inavanti dei cavalieri e quindi si riprende nuovamente con una mischia a introduzione pesarese sì vedevo adesso che si stavano confrontando Antonelli e Bartolomei perché forse Bartolomei non ha sbagliato qualcosa perché la palla non è uscita bene non gli è arrivata molto bene ad Antonelli quindi si stanno confrontando bisogna cercare di spingere di più perché questa qui era una grossa occasione per Prato che è riuscito a prendere la palla quando ce l'hanno noi molto avanzate come sempre Prato ma bisogna spingerli indietro si serve una tolonatura veloce e rapida per dare subito modo ad Antonelli di recuperare l'ovale di metterlo a disposizione quindi dei tre quarti ovviamente non è semplice adesso l'arbitro richiama le due mischie andiamo a Pesaro che deve compattare al più il suo pacchetto di mischie per trovare la miglior spinta possibile per andare a cercare di recuperare l'ovale e fatica ancora Pesaro infatti recuperano ancora l'ovale e purtroppo c'è una dormita fra i pesaresi che però Pesaro Pesaro sembra essere riuscito a portare il giocatore toscano in tush così è perché l'arbitro non si confronta più nemmeno con il guardaline e adesso sembra che ci sia qualche problema alla vista per la terza linea dei cavalieri probabilmente gioca con le lenti a contatto e in occasione di questo placcaggio si può essere mossa una lente perché stanno proprio guardando gli occhi del giocatore adesso quindi c'è un momento di pausa gioco interrotto arbitro che ha fermato il cronometro e ci sarà una tuscia in favore di Pesaro una tuscia da posizione decisamente delicata molto delicata questa posizione ma la mischia è la seconda con Bartolomei che non è andata affatto bene loro recuperano palla si avvicinano pericolosamente alla meta ma non riescono a farla non riescono a concretizzare il buon lavoro di Prato che sta facendo oggi in mischia Pesaro che in settimana dovrà rivedere assolutamente la mischia perché oggi non è andata molto bene fra l'altro mischia che ha ruotato un po' terze linee di Pesaro che non sono riuscite a uscire fuori subito per contrastare la la terza dei cavalieri che è uscito dalla mischia e per poco non è arrivato fino alla meta vediamo che ancora stanno sistemando sembra problemi risolti per la terza linea dei cavalieri Righini e adesso Tush per Pesaro vediamo Lancio buono nelle mani di Tontini buono il passaggio di Boccarossa per Franco adesso serve una buona piattaforma per dare la palla a Giobert per calzarla via così riesce Giobert palla che però rimane in campo e Pesaro che deve salire e sistemarsi al meglio con la sua difesa buona la difesa su Pesci da parte di Larezzarte adesso sono i cavalieri che provano a sfondare al centro buono il placaggio di Caroli e D'Erbolini vediamo cavalieri che provano a dare ritmo a largo buono l'offload buona la difesa di Pesaro vediamo se riesce a portare ancora maggiore pressione contro cavalieri Prato che adesso sono dentro i 22 pesaresi situazione critica per i giallorossi devono difendere al meglio riescono a respingere l'attacco dei cavalieri vediamo cavalieri che adesso vanno vicino al punto di incontro vediamo se proveranno con qualche attacco veloce vicino alla racca adesso è bravo Bartolomei a contrastare l'attaccante avversario Pesaro che mette a terra il giocatore dei cavalieri adesso vediamo cavalieri che faticano ad andare oltre la linea del vantaggio ancora palla loro però Pesaro che prova a portare pressione cariche dritto per dritto per i cavalieri vediamo che adesso provano a partire vicino alla racca vediamo se andranno di pick and go proveranno ad aprire il gioco provano ad aprire ancora sull'out di sinistra Pesaro che continua a respingere è bravissima Pesaro ad andare a cazza dell'ovale e a recuperare il pallone tenuto in questo caso dai cavalieri diciamo davvero grande sacrificio da parte di giallorossi grande difesa da qua da parte di Pesaro che riesce a bloccare l'avanzata di Prato che sembrava potessero andare in meta piano piano ma invece riescono a contrastarla molto bene intanto Bartolomei che è andato a terra sembra che aveva preso un forte colpo adesso invece Giubert che deve cercare di allontanare questa palla dopo che è stata una grandissima difesa da parte di Pesaro vediamo Bartolomei che si rialza e vediamo se riesce a stare in campo è decisamente dolorante però sembra volerci provare vediamo se sarà così o se rientra al suo posto Stefanini lo stanno segnalando all'arbitro che potrebbe rientrare Stefanini per Bartolomei ricordiamo che in questo caso nel rugby non può rientrare un giocatore già sostituito ma c'è un'unica occasione in cui questo può avvenire che per quanto riguarda le prime linee nel caso in cui l'unico giocatore di ruolo in questo caso tallonatore a disposizione è il giocatore che è stato sostituito allora può rientrare visto che Bartolomei esce per infortunio e adesso per Stefanini subito l'ingrato compito di lanciare una tush a freddo e infatti purtroppo non va a buon segno e quindi sono i cavalieri che possono riordinarsi e provare a ridistendersi vediamo Pesaro che deve riorganizzarsi velocemente in difesa ed è Lorenzi in questo caso a mancare un placcaggio che sembrava anche piuttosto facile però Pesaro deve subito risistemarsi van dritto per dritto i giocatori toscani Pesaro deve resistere vediamo c'è una superiorità a largo per i toscani bravo Pesaro però a chiudere non riesce l'offload a Puglia Pesaro va subito a contrastare il il pallone c'è l'ennesimo tenuto da parte dei toscani in questo caso di Puglia e Pesaro potrà rifiatare con un calcio di punizione e cercherà sicuramente di andare subito in tush un'altra volta ottima ottima difesa da parte di Pesaro bravissimo Villarosa che prende la palla riusciamo ancora una volta a difendere molto bene però dobbiamo cercare sempre di allontanarsi c'è sempre noi in difesa dobbiamo cercare di tenere questa palla e provare ad andare a fare meta perché se no questa partita oggi non si vince e sappiamo quanto è importante intanto entrerà mi sa mei che lo vedo senza casacca e adesso e adesso vediamo se Pesaro riuscirà a portare a casa questa tush è una tush d'oro a 5 minuti dal termine in realtà penso che mancherà qualcosa di più visto che l'arbitro ha più volte fermato il cronometro adesso è entrato Mei per Antonelli altra qualità in mischia buonissima la prova di Antonelli anche oggi per lui sempre grande sacrificio in campo tanti metri di lui percorso e tanti placaggi sempre una garanzia questo giocatore per la Pesaro Rugby ora vediamo Massi al lancio lancio sull'ultimo blocco bravissimo capitano Villarosa a tenere questo vale di sana verità era veramente complesso tenerlo in mano e adesso Pesaro che organizza al meglio la sua la sua molle intanto c'è un vantaggio per Pesaro Pesaro che prova a giocarla vediamo un po' calcio sull'ala da parte di Jobert ed è meravigliosa la presa al volo probabilmente di Rulli e vediamo se Pesaro riesce ancora a giocare sull'out di destra non credo che il vantaggio sia acquisito adesso palla per Mei il vantaggio non era acquisito davvero bravo Pesaro intanto inizia a piovere al Totti Patrignani e vediamo un po' cosa farà Pesaro sicuramente adesso andrà a cercare una touche per avvicinarsi ancora di più alla linea di meta e Pesaro che a questo punto deve fare la partita adesso buona la touche conquistata da Jobert vediamo un po' se riuscirà vediamo Stefanini al lancio Pesaro che non deve sbagliare questa touche ma portarla a terra purtroppo non si riesce forse c'è stato un contatto in aria l'arbitro però non se ne avvede quindi è palla dei cavalieri che provano a distendersi sull'out di sinistra adesso deve essere bravo Pesaro al placaggio soprattutto è bravo Pesaro perché recupera subito l'ovale per l'inavanti dei Toscani e quindi si riprende con una touche in favore dei pesaresi ottima difesa ancora una volta prendiamo la palla molto bene vantaggio non conseguito perché ci ha dato un vantaggio però stiamo andando molto bene siamo nella loro metà campo bisogna sfruttare questi momenti perché in questo secondo tempo Pesaro sta dando una grossa dimostrazione di forza Prato che non sembra essere esaltante come nel primo tempo e stiamo sfruttando soprattutto questa cosa e anche il cambio di atteggiamento da parte dei pesaresi cambio di atteggiamento da parte di Pesaro forse Prato si è un po' seduto in questo secondo tempo anche perché a Prato ricordiamolo manca al momento la quarta meta della partita che è la meta del bonus vedevano forse il traguardo vicino non avevano fatto i conti con lo spirito di rivalsa della Pesaro Rugby che era entrata davvero male nel primo tempo e che invece si sta facendo valere in questo secondo adesso altro momento di pausa l'arbitro che parla con Puglia il capitano dei Toscani e da che doveva essere mischia in favore di Pesaro addirittura probabilmente il guardaline ha visto un fallo e così si riprende con una tush in favore di Pesaro molto meglio vista la fatica che faceva Pesaro in mischia mentre in tush sicuramente è stata una delle due fonti di gioco che è andata meglio vediamo adesso Stefanini al lancio in tush vediamo primo blocco questa volta tutto buono Pesaro che imposta la molla drive avanzante al momento vediamo se Pesaro riesce ancora a macinare metri l'arbitro non segnala nulla quindi la molla è ancora avanzante drive avanzata adesso c'è un vantaggio per Pesaro vediamo se la palla è ancora nelle mani di Pesaro se la può giocare così è e adesso è Giobert che apre tutto per la resciarte vediamo se riesce a recuperarla al volo riesce a recuperarla ma non riesce a schiazzarla bravo la resciarte comunque e si riprenderà a questo punto dall'auto di destra vediamo Pesaro probabilmente andrà ancora una volta in tush dovrebbe esserci c'è il tempo per andare in tush diversamente non andranno sicuramente Giobert che va a lanciare in tush l'ovale adesso piove copiosamente sul altotti patrignani quindi partita ancora più pesante di quella che non è stata sin qui tush sui 5 metri tush delicatissima vediamo se Pesaro sceglierà ancora di lanciare sul primo blocco andare sui blocchi dietro invece ancora primo blocco Pesaro decide di andare di impostare una molle vediamo che ancora l'ovale in mano ai pesaresi l'arbitro non ha segnalato nessun vantaggio dovranno aprire l'ovale provano a giocare vicino la rack pick and go per Pesaro sfidano il fisico dei toscani Pesaro che spinge la palla è ancora lì tanti pick and go per Pesaro non riescono ancora ad andare oltre la linea di meto avvantaggio per Pesaro Pesaro che prova per la posta in palio maggiore da paletta a sfruttare uno scivolone della retroguardia dei cavalieri ed andare in meta praticamente allo scadere adesso vedremo quanto mancherà adesso dovrà trasformare Giobert da posizione più che centrale intanto Pesaro guadagna altri 5 punti e si porta sotto di un solo punto rispetto ai cavalieri Prato Sesto Fiorini Pesaro Rugby che si porta quindi a 18 punti cavalieri Prato Sesto che sono a 19 vediamo se riuscirà a centrare o meno questa trasformazione Giobert e adesso è tutto nei piedi o meglio nel piede destro di Lyle Giobert per tutti a Pesaro Lillo e così è Giobert trasforma Fiorini Pesaro Rugby che si porta quindi sul 20 a 19 ai danni del cavalieri Prato Sesto l'arbitro però non fischia la fine quindi c'è ancora qualche minuto da giocare in questo secondo tempo adesso serve la massima attenzione in difesa da parte della Fiorini per portare quanto prima a casa la partita adesso Pesaro deve salire deve salire deve fare attenzione linea difensiva che deve stare quanto più attenta attenzione a non prendere calci di punizione Pesaro non deve commettere il benché minimo errore nessun fallo perché potrebbe costare caro adesso dagli spalti ovviamente urlano e chiamano a gran voce la fine del match perché ovviamente Pesaro ha solo da perderci in questo momento cavalieri che danno tutto per riuscire a trovare una punizione o comunque la possibilità di di fare punti adesso arriva un calcio di punizione per cavalieri Prato Sesto e sarà da vedere se andranno in tush o piasseranno vanno in tush decisione che potrebbe essere anche discutibile è vero che era ben distante dai pali però era molto centrale il calcio di punizione forse potevano provare a trasformarlo manca davvero poco ultime fasi della partita una tush poco dopo la metà campo e pesaro che deve fare di tutto per contrastare al meglio i cavalieri Prato Sesto si mamma mia che tensione questo fine partita bellissima la metà che ci siamo riusciti a fare adesso bisogna difendere con i denti bisogna prendere questa palla cercare di tenerselo comunque difendere fino alla fine perché stiamo facendo una grandissima partita in questo secondo tempo adesso mola avanzante dei cavalieri pesaro deve riuscire a fermarla c'è un vantaggio per i cavalieri e adesso a momenti riesce un calcio un calcio improvvisato da parte del centro dei toscani adesso altro calcio di punizione per i cavalieri che scelgono di andare per i pali e adesso è tutto nei piedi penso probabilmente di Puglia fin qui è sempre stato lui il calciatore disegnato vediamo se i cavalieri Prato Sesto sceglieranno di dare ancora a lui la possibilità sì sarà lui a provare a piazzare e deve centrare i pali per dare la vittoria ai suoi cavalieri diversamente sarebbe Pesaro ad alzare le braccia al cielo adesso silenzio al Totti Patrignani Puglia ha tutte le qualità per mettere fra i pali questo calcio l'ha dimostrato prima e l'ha dimostrato nei campionati passati vediamo un po' calcio per Puglia che va il calcio finisce in mezzo ai pali e la beffa è davvero grande per la Fiorini Pesaro Rugby che a questo punto perde la partita per 22 a 20 termina qui la partita davvero tanta l'amarezza per i pesaresi l'amarezza maggiore però forse non essere riusciti a giocare quel primo tempo il primo tempo in questo caso costa tanto perché abbiamo visto che Pesaro ha dimostrato di essere forte ha dimostrato di essere all'altezza e le aspettative sono state rispettate la partita combattuta fino alla fine però quel primo tempo è sicuramente da rivedere però secondo tempo veramente ottimo grande dimostrazione di forza bisogna migliorare però magari al ritorno sperare in una vittoria una Fiorini Pesaro Rugby che deve ripartire da una maggiore consapevolezza nelle sue possibilità ha dimostrato di potersela comunque giocare alla pari con un avversario di tutto livello e quindi si ripartirà da qui Fiorini Pesaro Rugby quindi che esce sconfitta per la prima volta in questo campionato al Totti Paterignani per 22 a 20 contro i Cavalieri Prato Sesto ha perso 22 a 20 ha perso 22 a 20 ha fatto gol Augusto Allori oggi una sconfitta per la Fiorini Pesaro Rugby 22 a 20 una sconfitta arrivata all'ultimo minuto bravi i Cavalieri Prato Sesto a credirsi fino alla fine però forse altrettanto brava questa Fiorini Pesaro Rugby che aveva terminato un primo tempo sotto di non pochi punti nel secondo tempo ha dimostrato di credersi e di poter giocare alla pari contro una delle squadre che sono prime della classe in questo campionato Allora diciamolo così è una partita che la stavo vincendo nell'ultimo minuto l'abbiamo persa nell'ultimo secondo purtroppo è andata così peccato perché è stata una bella iniezione per noi per andare avanti dopo un periodo un po' sfortunato sì abbiamo perso alla fine come ti ho detto nell'ultima giocata però io penso che prendo molte cose positive finalmente ho trovato una squadra con il carattere che cerco il primo tempo non abbiamo fatto bene le cose che dovevo fare per il secondo tempo ha funzionato e ce l'abbiamo giocato fino alla fine contro una delle migliori squadre del campionato quindi il risultato è meglio per loro i numeri però è positivo per me come squadra e per continuare ad andare avanti è vero persa l'ultimo secondo però forse il vero peccato è stato giocare quel primo tempo terminato 19 a 3 in favore dei Cavalieri dove i giallorossi hanno fatto davvero una gran fatica a fare il loro gioco cos'è cambiato fra il primo e il secondo tempo dove si è vista una Pesaro Rugby tutta diversa abbiamo parlato che con queste condizioni climatiche sicuramente vince le scuole che fanno errori noi abbiamo provato a giocare due palloni penso che il gioco al piede è quello che ci ha che le ha permesso a loro di avere il meglio il primo tempo secondo tempo abbiamo lavorato meglio abbiamo cercato giocare un po' meno nel nostro campo ci siamo abbiamo rispettato di più lo che è il piano di gioco ed era molto simile di tutte le due squadre hai visto praticamente come è finita un risultato molto tirato alla fine quindi in giornate così che ce ne saranno tante contano i dettagli contano decredici fino alla fine contano il piano di gioco c'è vento c'è pioggia campo bagnato quindi vince chi sbaglia di meno chi è più disciplinato sicuramente però come ti dico per esempio ti faccio un esempio loro hanno un taglionatore che avrà 300 partite in eccellenza noi avevamo uno che ha 18 anni appena compiuti quindi sono fiero alla mia squadra che ha giocato oggi questi sbagli spero che non si ripresentino in futuro è quello che ci serve a noi imparare di queste sconfitte adesso la prossima settimana subito la possibilità di rialzare la testa si andrà ad Avestano un campo non semplice contro una rivale diretta per una metà classifica probabilmente sì è un scontro diretto con una delle squadre che è vicino a noi quindi sicuramente sarà difficile sempre in Abruzzo è difficile giocare fuori quindi sicuramente la prepareremo al meglio i ragazzi devono essere fieri della prestazione di oggi ripartiamo ripartiremo la settimana sicuramente con il morale alto grazie in bocca al lupo grazie 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 grazie